su un'idea di 2 non è molto forte non è forte ok provo perché ho il microfono nuovo no e provo ad alzare il volume ora mi senti meglio ok c'è il volume più alto provo a modificare le impostazioni audio ora mi senti meglio il volume al massimo ecco del microfono sì è meglio 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 è meglio meglio esatto sì ho riservato un ticchetto un biglietto un biglietto di colombia da tre giorni da tre giorni da tre giorni o tre giorni fa ho prenotato un biglietto ho prenotato un biglietto tre giorni fa wow quindi ora è ufficiale ecco ora è ufficiale sì esatto il verbo in italiano è volare il verbo volare i will volarò 29 29 29 di dicembre wow quindi farai il capodanno l'ultimo giorno dell'anno lo farai in colombia sì esatto perfetto festeggerò festeggerò capodanno in colombia wow bellissimo ecco quindi è ufficiale partirai tra 20 giorni più o meno tra tre settimane esatto e com'è avevi pensato di partire il 29 più o meno o preferì partire un po' più tardi o un po' più presto no no sapevo totalmente stavo pensando pensando molto su questo su questa cosa ecco su questo su questa cosa su questa data su questa cosa si però è fatto una una decisione di venire questo questo mese questo mese questo mese questo mese è perché 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 no un trabato un lavoro lavoro quindi è meglio sì certo ok wow anche perché lì ora è diciamo che è un contrasto forte con la svezia ora con il caldo e tutto quanto ecco sì sì tu sei mai stato un tipo più amante più propenso all'inverno all'estate o alla primavera o all'autunno ecco come ti senti tu ti senti a tuo agio con la svezia con il clima o no? non mi piace molto il clima non mi piace molto il clima il clima in svezia specialmente non sei un clima caldo ecco un clima caldo ecco un clima caldo sì è meglio è meglio per la mia salute certo è meglio per la mia salute io per esempio ecco soprattutto quando ero piccolo soffrivo molto di asma asma per umidità ecco 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 anche tu hai dei problemi simili respiratori con l'umidità con il freddo o no? no solamente con con mia testa per vivere in svezia ok ok bene è solo con la tua testa bene che cos'è che non ti piace proprio perché dice una cosa psicologica ecco che cos'è che non ti piace non tanto il freddo più che altro può essere per il buio perché ci sono poche ore di luce poco sole sì tu dici anche in italiano vuoi dire c'è c'è o ci sono? ah sì sì ci sono c'è o ci sono o c'è una cosa no? c'è c'è o ci sono? c'è o ci sono? esatto ci sono molte cose che mi molesto come non sei come mi arrabbiato meglio dire sì ci sono molte cose ci sono molte cose che mi che mi disturbano ecco che mi fastidiano della svezia ci sono molte cose che mi disturbano o che non mi piacciono ecco che che non mi piacciono no mi piacciono sì ma quindi è il clima certo però è anche le persone che sono non sei sono noiosi come in plural sì sono noiosi 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 creo e la cultura è noiosi tambien quindi pensavo di questo non sei da tre anni o algo quindi è veramente il tempo per farlo per farlo certo adesso certo certo da tre anni ecco che non riuscivi più a come dire a trovarti a tuo agio a stare bene ecco a stare bene in svezia per il clima per le persone e tutto quanto sì sì quanto quanto pensi sentavo 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 sentivo come mi sentivo sì mi sentivo come mi sentivo come terminato finito finito mi sentivo finito bravissimo finito un po' mi sentivo che la relazione di Svezia io sono troppo finito da Svezia sono troppo finito di Svezia già tre anni fa no ok quindi è come una sensazione molto forte non so in mio corpo nel mio corpo certo certo nel mio corpo assolutamente sì ecco ti sentivi finito ti sentivi che la relazione tua con la Svezia fosse ecco arrivata al suo termine arrivata al termine o puoi anche dire al capolinea il capolinea per esempio esatto della metro, del tram, del bus c'è il capolinea che è l'ultima arrivata al termine o al capolinea interessante non c'è cosa peggiore secondo me di quella che vivere in un posto dove non ti senti non ti senti diciamo veramente appartenente a quel posto quindi ecco ogni singolo giorno ti immagini in un altro posto in un'altra cosa però vivi in quel posto sì sì esatto e specialmente quando tu vita anche molto triste come te ho detto che le ultime anni molti stresso in generale con mis studi mi lavoro lo stesso tempo lo stesso tempo quindi ovviamente non fanno cose meglio sì ecco ecco tutte queste cose nello stesso tempo non aiutano non aiutano non aiutano anzi anzi peggiorano anzi peggiorano solo la situazione peggiorano solo la situazione certo e poi ecco quindi ci metti il clima le persone ci metti studio lavoro pandemia sì sì e che anche specialmente anche specialmente questo anno molte cose hanno succedo sono successe sono successe molte cose sono successe esatto si usa sono con tu tu puoi scrivere qui preferisci su skype e poi tu puoi cambiare perché se no io necessito cambiare la pattaia e vedere nel documento ok ok no io in genere faccio metà schermo con il video e metà con il testo però ecco se preferisci su skype tu puoi solamente copiare tutto non bisogna essere perfetto ok diciamo che l'editing no ecco copia incolla e va bene tutto ok quindi ecco sono successe molte cose negli ultimi anni che ti hanno che ti hanno spinto che ti hanno portato a questa decisione finale che si avvererà avvererà il 29 29 però però no è come una cosa che è molto facile anche perché è molto stress stress come fuori fuori in la società in generale è difficile è difficile sapere 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 sì esatto è difficile sapere se tutte le cose funzioneranno funzioneranno non so sì se funzioneranno ecco in un futuro dici sì funzioneranno ok è possibile che saranno problemi saranno problemi con i voli con i voli bravo con i voli con i controlli con la quarantena ecco appunto vorrei chiederti parti tra poco come devi fare ecco per un volo così lungo così ecco cambi da paese cambi da continente cambi anche da zona economica ecco perché non è Unione Europea cosa cosa devi fare con il test una quarantena ecco cosa devi fare sì stavo leggendo 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 bravo leggendo un po' di questo sì stavo leggendo un po' su questo su questo tema ecco no credo che ho bisogno di fare molte cose no credo però ho letto sopra su sopra ho letto su questo tema ovviamente però in dinamarca per esempio non ho bisogno un un covid prueba un covid test per per volare a un'altra destinazione non bisogno e è lo stesso in Amsterdam e la prossima dopo la prossima dopo è Colombia, Bogotà e finalmente Medellin è un viaggio molto non sei, largo 18 ore è un viaggio molto lungo quindi se ho capito bene non c'è un volo diretto dalla Svezia alla Colombia e devi fare Svezia tu vai da Malmo a Copenaghen in macchina, treno ecco perché c'è un ponte c'è un ponte tunnel vai ti muovi ecco da Malmo a Copenaghen da Copenaghen ad Amsterdam con l'aereo poi da Amsterdam c'è un volo diretto per Bogotà e da Bogotà un altro volo per Medellin wow ok quindi due scalas esatto bravissimo due scali gli scali aerei ecco due scali due scali wow con tutti questi scali tecnicamente rimani diciamo nella zona internazionale dell'aeroporto non devi fare i controlli perché ecco tu non esci in quel paese tecnicamente in Olanda per esempio tu rimani ecco nell'aeroporto nella zona internazionale sì no no entro la società quindi rimango chiedermi come rimango non so rimango perfetto rimango in l'aeroporto sì 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 diciamo l'aeroporto o se rimani dopo i controlli lo chiamiamo il duty free ecco il duty free quella zona ecco dei gates no delle porte di imbarco bene e quindi ecco wow sarà un viaggio lungo mi hai detto 18 ore più o meno cambierai molti fusi orari e molte cose sì 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 è un volo volo è molto cansante come tiring stancante stanco stanco sarà un volo molto stancante molto stancante assolutamente sì sarà un volo molto stancante hai mai fatto altre volte un volo così lungo così no no è come volito ho volito ho volato ho volato ho volato e anche 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 maurizios una volta maurizios quindi è comodo 10 a 3 o comodo 13 ore 13 ore però ma nunca 10 a 8 ok mai 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 18 ore mai 18 ore mai 18 ore wow ok niente no io ho ho volato molto per l'età che ho ecco sono abbastanza giovane ho volato molto ma ho volato solo low cost solo con i voli in Europa sai 2 ore 3 ore massimo il volo più lungo 4 ore dalle Canarie all'Italia 4 ore il volo più lungo quindi ecco non so diciamo che non so cosa si provi no sai in un volo così lungo con 13 ore con i fuso orari con tutto quanto ecco sì 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 non è non è algo something non è non è qualcosa non è qualcosa che è come non so exciting ecci tanto sì diciamo non è qualcosa di stimolante di eccitante ecco non è non è qualcosa di stimolante ecco stimolante anzi anzi è molto stancante esatto esatto stimolante wow e come e come ti trovi tu con tutti questi cambi di di ore ecco cambi di ore e dopo anche cambi di climi ecco per esempio i primi giorni ti senti molto stanco devi diciamo ricalibrare il tuo orologio biologico ecco dopo un giorni un paio un paio un paio un paio di giorni è come normale ok però non non so avevo anche detto che non mi non mi ricordo bene dove ma se vai verso est o verso ovest il cambio diffuso orario diciamo influenza diversamente per esempio è più difficile uno che un altro non mi ricordo bene dove però è più difficile uno che l'altro sì 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 creo che si dice qualcosa qualcosa su questo sì 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 non mi ricordo bene dove forse forse se vai verso ovest è più facile forse se vai verso est è più difficile il cambio non mi ricordo bene dove non sono così sicuro ecco è meglio non pensare è super sì 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 assolutamente e invece a proposito di climi ecco hai mai sperimentato qualcosa di simile perché poi mi hai detto che vai a Medellin no e anche la Colombia ha molti climi ha micro climi per esempio Bogotà non è lo stesso clima ecco di Medellin ecco come mai hai scelto proprio Medellin no la famosa città di Escobar che ho visto il tuo video Escobar no 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 dici no tu tu dici dico dici esatto tu dici no dici dici questo al al tutore di colombia ho visto il tuo video sì ho visto il tuo video su youtube di Escobar non è molto popolare con con molte tutores o mestres mestri molte maestres un tutor diciamo ecco tutto sì però per me volevo vivere vivere volevo vivere è corretto? esatto volevo vivere volevo vivere in una una città che come che che caliente calore che che tu hai detto una città calda una città calda che è anche grande però non troppo grande come Bogotà per esempio quindi per me penso che Medellin sarà perfetto sarà perfetto perché è una città che che è grande però non è demasiado grande troppo grande quindi credo che sarà perfetto sì assolutamente sì e come mai non hai scelto magari una città più di mare perché io sono molto per il mare sì 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 sono sono d'accordo sono d'accordo sì però all'inizio mi piace vivere in marine ma è lo 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 il me lo non lo 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 la cosa buona ecco diciamo la cosa positiva la cosa buona positiva la cosa buona positiva la cosa buona è che io posso vivi vivere in altre città o come è città in plural también città rimane città sempre altre città vicino al mar por ejemplo por ejemplo o è questo come opzion o dici che puoi sempre scegliere dopo ecco non è una scelta esatto posso posso sempre cambiare cambiare dopo bene quindi ecco ti piacerebbe vivere un po' in diverse città della colombia o anche di altri paesi nel sud america non se totalmente non sei non so totalmente ma mi penso che adesso è probabilmente rimango colombia per sei mesi sei mesi e forse tre mesi in perù tre mesi in rio de janeiro però anche in brasilio non sto seguro non voglio fare un plan come che è totalmente come in inglese diciamo che è written in stone esatto esatto voglio essere un poco flessibile non voglio non voglio pianificare troppo ecco pianificare troppo o non voglio non voglio pensare prima in ogni singolo dettaglio diciamo farsi farsi trasportare ecco farsi trasportare dalla vita dalle emozioni da quello che ti piace di più e quello che non ti piace sì vivere come come un artista totalmente libero esatto esatto ecco diciamo che online ora ci ha dato un'altra forma di libertà ecco ci ha tolto molto per esempio diciamo ci ha tolto molta privacy ecco ma ci ha dato altre cose ecco come questa libertà più che altro di scegliere dove lavorare e vivere indipendentemente ecco esatto sì esatto esatto però sì come si dice we will see come vedremo 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 sì esatto vedremo come va tu sei una persona che con che con il sole si brucia si scotta diventa rossa facilmente o riesci a mantenerti più tranquillo con l'abbronzatura io ho come un pelle come skin o una pelle o una pelle ma come una persona di Europa del sud o algo quindi mai mai sono come rosso come rosso ma più più negro che rosso più nero più 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 abbronzato diciamo più abbronzato esatto guarda poi anche tra sud europei c'è differenza molta perché io per esempio sono una persona molto come dire molto mediterranea ecco che si abbronza di un marrone e non si scotta e si brucia facilmente ma la ragazza spagnola è bianca 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 e si brucia in un secondo così aia 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 bisogna o you like you become si io voglio dire like you need to come plural dovete dovete viaggiare come posti poste poste come svesia no dovete viaggiare a posti freddi ecco posti freddi posti no anche se mi piacerebbe molto andare in scandinavia soprattutto per l'aurora boreale che dovrebbe essere bellissima ecco non so se l'hai mai vista tu l'aurora boreale l'aurora boreale aurora boreale northern lights ah ok aurora boreale no mai mai ho visto mai ho visto aurora boreale wow assù perché è molto più a nord giusto non è nel sud della svezia devi andare molto più a nord sì sì poi poi verlo in nord della svezia ma anche come in island islandia esatto islanda norvegia finlandia anche finlandia si sa e ovviamente svezia sì 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 quindi ecco non hai mai visto l'aurora boreale ma avrai fatto qualche sport tipico scandinavo come sci o sci nordico o queste cose sì tu mai hai mai hai provato hai mai provato a sciare sì assolutamente sì hai mai provato a sciare ho provato a sciare una volta nella vita una settimana a 15 anni e mi è piaciuto moltissimo è stato bellissimo sciare siamo andati sulle Alpi ah sì è stato bellissimo poi basta non ho più sciato ecco perché è difficile comunque trovare il tempo per partire andare una settimana in inverno ecco e poi e poi costa anche molto ecco sciare costa molto ecco non è uno sport così economico però tu puoi dare puoi dare classi nella montagna esatto esatto mi piacerebbe molto ecco in un futuro post post covid farò ecco qualche mese in montagna assolutamente sì sì oggi ho bisogno di ir venire venire alla polizia 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 per fare un nuovo passaporto ok ho bisogno di andare al commissariato alla questura ecco al commissariato di polizia ecco come dire headquarters di polizia bisogna di andare al commissariato ecco come mai per fare un passaporto nuovo ecco per rinnovare per rinnovare il mio passaporto da quanto tempo è che è scaduto ah ok io ho come un po' un po' ma un po' più di un un anno anno del mio passaporto però ma voglio rinnovare sì sì se io me rimango sì io chiedo di rimango nel futuro sì rimangorò sì rimarrò sì rimarrò rimarrò è un po' irregolare ma più di un anno può essere un problema una problema con ogni volta ogni volta che tu che cambi paese no paese cambi paese perché un paio un paio di paese ha regole regole esatto ha regole bisogno di più di sei mesi per esempio per entrare in un paese quindi è meglio fare questo adesso quando io posso farlo no certo certo ci sono dei visti delle restrizioni ecco ogni volta che entri in un paese extra europeo ecco diciamo quindi ecco questa è un'altra cosa interessantissima ecco per quanto tempo puoi restare in colombia come turista dipende però se se tu si no no hai una visa una visa all'inizio tre tre mesi però ma puoi rinnovare 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 tre tre mesi di più quindi sei mesi in total in colombia sin without a visa sin una visa senza un visto senza un visto credo credo sei sei mesi in un anno in un anno sì esatto ecco sei mesi ma ovviamente io posso posso come acquirire o comprare un visa anche se io veramente voglio farlo certo immagino di sì ci sono molte persone poi che in giro per il mondo ecco restano per il limite del proprio visto in un paese quando quel limite scade vanno per un giorno o due in un altro paese e poi tornano nello stesso paese e si rinnova il visto ecco esatto bene ecco e come farai con la casa con la casa che hai se hai in affitto se è tua ecco con il gatto come 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 fai darò mio gatto a mia abuela e poi mio appartamento mio appartamento bisogno di bisogno di rent out come alquilar sarà affittato il mio appartamento sarà affittato ok non sarà affittato sì perché l'appartamento è di tua proprietà o è affittato è affittato però io io sono la prima la prima persona che non sta sto affittando il appartamento quindi tu hai affittato il tuo appartamento e lo vuoi sub affittare sì esatto sub affittare sì esatto bene interessante e com'è il mercato immobiliare ora a Malmo ecco ci sono perché ho visto che gli svedesi vivono molto indipendentemente ecco no che escono da casa subito e vivono in monolocali spesso giusto sì le persone è molto comune vivere solo nel mio paese sì sì è vero è vero ok ok bene come l'hanno presa in famiglia ecco questa notizia della del tuo cambio ecco di colombia e medellin tutte queste cose ecco sì non no no non importa molto para me molto para me sì sì mi mia famiglia piensa in general perché perché è importante per me cambiare mia vita vita credo che più problematica per mia abuela nonna nonna certo per mia nonna per mia nonna perché lei è sola ma almeno ha 94 anni wow 94 anni sì sì wow e vive vicino alla famiglia ai genitori ai nipoti o vive fuori sola o in una residenza no vivo vive sola in un appartamento vicino da me vicino da me sì è solamente non se un paio paio un paio di un paio di minuti da me un paio di esatto un paio di minuti da me un paio di minuti sì quindi ecco tu hai una relazione molto buona e quotidiana con tua nonna basta scendere camminare e la saluti sempre wow quindi tua nonna con 94 anni vive sola e sta benissimo sì wow qual è il suo trucco il suo segreto ecco per una vita così il segreto è fumare il sigaret esatto esatto è anche quello di mio nonno è lo stesso trucco è un segreto ecco è fumare bene quanto fuma tua tua nonna no no non è come troppo come prima mia nonna sta fumando sei sigaretto per giorno per giorno ma era più molti anni fa esatto esatto ecco quindi sì 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 è vero ecco è vero persone come loro come i nostri nonni ecco perché io ho un nonno di 84 anni che fuma tutti i giorni sta abbastanza bene ecco per avere 84 anni e niente ora pensa che gli hanno fatto una cura con l'ossigeno no con la bombola con l'ossigeno che entra dentro e continua a fumare con l'ossigeno che è pericolosissimo poi puoi esplodere c'è il rischio di esplosione ecco però per me questo sta dicendo algo sopra sulla importanza su genetica molto sì sì io penso sì io non sono un esperto ovviamente ma penso che la maggior parte sia genetica sia soprattutto come dire spirito testa no testa cuore ecco se sei felice dentro molte cose non ecco quindi genetica personalità e ovviamente le abitudini esterne quindi se fumi se mangi male se dormi male ok influenzano ma alla fine c'è molta genetica dietro ecco sì e anche suerte come sì 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 fortuna 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 anche anche la fortuna è come sì genetica e la fortuna in generale credo che tu credo che puoi affettare un po' con con tu abitudine di non sé affettare un po' come non sei non sei come 5% o 10% però hai un limito credo io sì assolutamente sì ecco fortuna non si sa mai anche perché spesso guardiamo le persone come tua nonna come mio nonno e diciamo ah loro vivono fino a 94 anni e fumano bevano tutto quanto quindi possiamo farlo pure noi ecco guardiamo quelli che hanno diciamo hanno superato molti altri perché loro sono vivi ma sono pochi ecco molti altri che facevano come loro che bevevano che fumavano tutto quanto non ci sono più quindi restano loro e abbiamo questo in inglese si chiama il survival bias no qualcosa del genere ecco è una cosa non mi ricordo il nome ecco survival esatto ecco survivorship bias ecco survivorship bias è molto interessante ecco quindi vediamo solo quelli che ce la fanno e automaticamente pensiamo che è facile farcela ma no non è facile farcela sai un po' come quella storia no che che Bill Gates che Mark Zuckerberg no che non finirono l'università no e diventarono miliardari quindi tutte le persone che non vanno all'università diventano miliardari no ecco sì 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 ti sento un po' costipato ecco un po' con il sì dammi un minuto sì non è covid no no ok anche sì covid no 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 ho paura di covid non importa parlo certo certo immagino anche che in Svezia ci sia tutt'altro tutt'altra mentalità riguardo al covid perché ho visto che in Svezia si è cercato sempre di mantenere questa linea molto aperta ecco molto aperta di tutto vero però ma ovviamente no no voglio problemi adesso prima mi mi volo no perché sarà un problema un problema può 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 essere un problema quando ho bisogno di volare sì io ho come si 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 quindi è meglio se io no ho si 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 mi volo si si esatto ecco quindi in Italia diciamo potrebbero farti storie nel senso che potrebbero esserci problemi potrebbero esserci lamentele potrebbero esserci ecco cose negative fare storie no potrebbero farti storie per per questa cosa del raffreddore potrebbero farti storie per non andare in Colombia ecco potrebbero farti storie sì farti storie it could be problematic o come come funziona sì ecco potrebbero potrebbero creare problemi potrebbero creare problemi fare storie e creare problemi potrebbero farti storie è molto è un italiano colloquiale ecco tra tra persone non è formale ecco ecco creare come un espressione sì esatto potrebbero farti storie bene ecco allora guarda vedo che youtube va che già sta andando meglio no quando ti ho conosciuto ecco avevi avevi il 50% di iscritti in meno ecco 50% iscritti sì avevi 55 ora ne hai 70 qualcosa giusto 75 77 no non entiendo no capisco no capisco che vedo che il tuo youtube sta migliorando ogni singolo giorno ecco ora hai 77 iscritti e quando ti ho conosciuto ne avevi 50 più o meno 52 53 sì un poco un poco sì sì è difficile crescere molto però forse con tempo sì mi come mi 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 pensamento come mi 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 non no 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 e fatto un video su la lengua sueca sueco la lengua su la lengua svedese 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 e sì e quando io quando io in italiano perché in in spagnolo necessito bisogno di usare subjektivo in questa frase quando io vai a colombia in italiano non c'è bisogno quando andrò ecco non è come in spagnolo si usa l'indicativo ok quando andrò farò più più videos o più più video diciamo come farò più video certo farai anche video sulla vita su la città sì in la città la cahie cahie sì strada sulla strada sulla strada con con le persone come il cibo sì sì queste cose queste cose esatto wow sì interessante ecco immagino l'importante penso per youtube come nella vita è divertirsi e trasmettere qualcosa di positivo poi alla fine questa cosa di iscritti tutto quanto io ne ho mille io ne ho diecimila io ne ho centomila secondo me la quantità non batte la qualità ecco ed è meglio avere la qualità che la quantità ecco per esempio preferisco avere cento iscritti che conosco personalmente e che ci rispettiamo ci stimiamo molto e ci consigliamo che averne centomila che non conosco che non so chi siano cosa facciano ecco non so non so niente sì sì e anche se tu se hai subscrittori eccetera no ed è è quasi impossibile come fare dinero o guardare dinero di youtube no è come è quasi come un sueno a dream no credo che è più importante fare altri lavori sì 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 e fare video solamente come un passatiempo sì 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 no no è vero è vero infatti sai con youtube no spesso si dice ah io farò youtube soprattutto con le generazioni nuove no che sono cresciute con gli youtuber no con il mito dello youtuber tutto quanto ecco come dire se non dai valore se non trasmetti un valore non stai creando nulla di positivo alla fine ecco io lo vedo molto con italki ora con il profilo sono arrivato più o meno a 150 studenti in un anno no e spesso si ha la mentalità di voglio studenti nuovi sempre di più voglio arrivare a mille voglio arrivare a diecimila studenti ma ecco ho capito con il tempo che preferisco avere cento persone e conoscerle molto bene o cento persone conoscerle molto bene che averne mille e vederle per una volta ciao sì sì esatto è meglio tener come no avere è meglio avere una relazione buona io credo più divertente in una maniera assolutamente sì assolutamente sì bene allora Pontus oggi è stato molto divertente e abbiamo imparato molto no sì 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 grazie mille grazie a te ci vediamo non so venerdì sì ci vediamo venerdì grazie mille allora grazie mille ciao 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 ciao